Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su Robocraft insieme a DarkFolly che non potete vedere ma c'è Esatto ci sono sempre, forse il tacchino l'hai fatto vedere Sì infatti ragazzi guardate c'è il mega tacchino qui Comunque ve lo ripeto di nuovo in caso non avesse capito Robocraft Perché ragazzi è un gioco veramente bello Non ci gioco anche su questo qua da tipo troppo tempo Però veramente è figo e ora vi faremo vedere cos'è in caso non l'aveste mai visto Adesso con B si parte vero? Sì sì poi fai battle mod e aspettiamo Battle online ok perfettissimo Madonna ma l'hanno cambiato troppo te Ce l'hai anche te la cosa la sbarra blu in fondo? Buono lo so Come non lo sai? Guarda la chat Ah non sparita aspetta oh ma ce l'avevo al contrario Allora Darketto te dove sei? Ah non mi vedi? Sì sì non mi vedi C'è uno che cammina E guarda qua alla tua destra Metano alla tua destra Sono invisibile Ma che cazzo Dark? Cos'è quella roba? Da quanto è poi che ci giochi? Quanto ci nerdi? No tutto Ma vola anche Vabbè Darketto Andiamo 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 Allora ragazzotti Comunque per chi non conoscesse il gioco Ah è vero come è che si Ah ragazzi su Chiappulli Per chi non conoscesse il gioco appunto Bisogna costruire delle astronavi Come quella di Darketto Che a quanto pare è fighissima E oh mio dio salta anche E poi si va a combattere contro la squadra per saria Che tipo se ne vede uno laggiù Metano ha giunto la gente che ti cura? Cioè ti riparano l'astronave e ci stanno sparando No 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 mi sparano Non mi sparano Non mi arano Oh sono andato a scontrarmi Meno male che non c'è il danno per scontro Ti posso schiacciare Non lo pare Allora aspetta c'è uno laggiù che non lo beccherò mai Penso Uh ha sciocato uno Metano Ma aspetta Ma Come cazzo hai fatto? Scusa St'altellando Madonna Oh ecco l'ho visto l'ho visto Ma l'hai ucciso C'è uno che vola là L'ho ucciso io Ok Ok l'ho colpito Ma non da quanto danno li faccio L'hanno ucciso gli altri Sì ma non posso fare nulla Io schiappo Dark Seguimi seguimi Vado verso la montagna io Sì va bene Ok perfetto Vieni qua sopra ce ne sono due Dark Mi serve il tuo aiuto che io non ce la faccio Io ho mezza stranava Metano Eh Dark ma la mia È buona Però c'è i blocchi che sono delle merde Ah sì aspettami E dovrei cambiare No non ti sto aspettando È questo il problema Avevo capito Uh c'è uno qua davanti cazzo No 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 Addio Metano Addio Dai mi ha shottato Riprendimi guarda come sono combinato Aspetta aspetta Appena mi sblocca la visuale ti guardo Ok vediamo Dove cazzo sei te? Ma no guarda che comunque è bellissimo Ma tu c'hai i blocchi super OP Dai ma che cazzo sei? Anzi non l'ho messo i detti perché mi stancavo Sì vabbè tu ma vai Shotalo quello lì Missata alla grande No davvero Ma non gli fai un cazzo? Ma sono al 10 Eh shottalo male Dai Guarda c'è un sedile che vuole Madò Ma che cazzo? La mira proprio 10 secondi Allora Dark andiamo insieme Perché io ti ripeto che la mia astronave I suoi danni li fa c'è da dirlo Però i blocchi sono merdissimi Quindi non so devo stare accanto a te E mi devi fare tipo da scudo Intanto sbaglio sempre direzione Perché è fatta al contrario Tipo Eh la madò Però dai è carina la mia Cioè La tua è OP È bellissima Però la mia è carina Stavo ribaltando Hai saltato il tipo lì Hai detto che non si può ribaltare la tua Dipende No dai ma dai Il posizionale cos'è Dark È che io ho già sbloccato i blocchi neri Che sono quelli più forti del gioco Ma siccome Cioè non ha senso Perché quelli neri costano troppo E non riesco a comprarli E comprare gli altri precedenti Eh no Prendere gli altri precedenti Quando ormai c'ho quelli là giù Che sono quelli dopo Non mi sembra molto sensata come cosa Capisci? Eh ma se quelli costano troppo Non ci arriverai mai Eh devo fare tipo 10.000 partite Ma questa è nuova? Non l'ho mai vista Quindi sì è nuova Ho visto uno sparo rosso Ce l'abbiamo a sinistra Dark l'hai visto? Alla prendere Ula madò Vuoi andare avanti o? Vabbè andiamo avanti Oh senti basta che ti decidi eh Perché mi è apparso un simbolo Tipo sull'astronave Di allerta Quando ti mira il cecchino Madonna il cecchino no Dove cazzo è? Oh guarda quanta gente Metano sali 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 No dark tanta gente vuol dire Dietro di te dietro di te Metano dietro di te Come dietro? Guardi sulla strada No non lo vedo Si è ribaltato dai Dove lo vedi? L'ho ammazzato Lascia vedere Forse ho capito però dopo What the fuck? Cosa sto facendo? Ok niente No 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 Non posso perché c'ho quello davanti Porca puttana Aspetta provo a rushare Rush agli contro Tanto siamo tutti qui Ok perfetto Tanto non mi uccideranno mai Spero Almeno Non penso sia così Non so l'ammirale solo a me Dai cazzo E muorici Dai ammazzala ammazzala No non l'ho presa io la kill Ok c'è quello che vola L'hai presa tu L'hai presa tu Mio dio mio dio E' vero la kill l'ho presa io Mi sta curando mi sta curando No 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 Mi danneggia tantissimo Mi danneggia tantissimo No 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 dark Ti prego aiutami Mi sta sperando ma non so chi Mi hanno ucciso Eh mi hanno washottato C'era uno dietro con le armi Assurde What the fuck Tu non sai cosa mi ha ucciso Mi ha ucciso un troiaio volante A merda Proprio Mastifoso Madonna lezzo Però una kill l'ho fatta Quindi buono Veramente guarda Siamo in tre in questa partita Non avere il premium Ti rendi conto Ah perché c'è il codice gratis Ma come vuol dire il codice gratis Ma tu ma è gratis No non è vero Nemmeno è gratis Se si paga Che vuoi dire Eh hanno capito tutti Cosa voglio dire Dai che hanno capito tutti Intanto te dove cazzo ti trovi Ah te ho visto laggiù Ah è vero perché Infatti non ho dato ora che sei verde Guarda che figa Cosa Sai cos'è overwolf Cosa di Si di team speak Eh guarda What No È bellissimo Per sponsorizzare overwolf Hanno fatto quella roba lì Si Ma è bellissimo però Eh si Sembra un Gormiti Ma lo sai che è molto meglio Rispetto a quello che avevi prima Non lo so Non l'ho messa È uscita da poco No ti dico a livello di blocchi Perché c'hai blocchi rossi Quelli rossi non sono Cioè sono buoni Si ma non troppo Capito Se si passa qua dal ponte Probabilmente ci spaccano Il culo di cattiveria Oh metà Non sta arrivando uno già No 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 Non me lo dire mai Ti prego L'ho preso Io ho tolto 34.000 Oh cecchino Aspetta mi affaccio No no Oh Dai non ci vedo Dai ma non può essere Ma che cazzo è Ci sono rimaste le armi vero Eh Me ne ha Sotto una 10 No 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 Io vado sulla destra Dai che non posso andare lì No tranquillo Sul ponte non c'è più nessuno Che no si stanno lasciando da destra Aspetta aspetta Ti facevi le easy kill metano Eh vabbè aspetta Lo vedo uno da qua lontano Cerco di shottarlo un po' Ok l'ho beccato un po' di volte Ma probabilmente hanno ucciso gli altri Faccio il giro sicuro Dark Perché non posso permettermi Vabbè ma intanto Qua è vinta Come Ah vero mancano tre nemici Ma what Sono tutti qui tre nemici Eh cerco di arrivare subito Perché De Se no mi sento per chiolette Se non vedo nemmeno un nemico Cioè ok Uno Un po' L'ho danneggiato Ok quello è un amico Ok il nemico è laggiù Mi ha dato la kill a me No non è vero Però senti il rumorino Che parla L'hanno Baggatina quella cosa lì C'è un po' baggata Che parla mi sta riparando Ma quello lì ripara mezzo mondo Madonna bellissimo Che facci figa scrivere in chat Perché ho la scritta dev Ma è un grande lui Mi ha curato quasi del tutto 99% 100% Ok l'ultimo dov'è Eh boh Tanto ormai conquistiamo la base Infatti vabbè andiamo a conquistare la base E chi se ne friga Non ti ho mai vinta Siamo 10.000 contro 1 Cioè per dire Vediamo Vediamo Aspetta che ti schiacci Salta e tu vai in retromarcia Ok Ah no aspetta 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 Va fatta a mod Salta Salta però Dai 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 Siamo scordinati Ma che cazzo Oh dio Devi starmi davanti Il mio accelera in avanti Non indietro Ok Boom Boom Che puttanata però Lezzino Stavolta ho fatto pochissimo Di soldi Tu sei sempre con Overwolf Sì Mi piace Mi piace Non lo sei Ah ok Canta a me Perfetto Sono un po' lezzino Dai Siamo girando le montagne Così Aspetta aspetta Eh vabbè Io non la so guidare Ti giuro ogni volta Parto al contrario Vabbè Non ho parole Ma le montate al contrario È proprio così No no È così di suo Che poi appunto Sai cos'è Che l'ho messo troppo Proposizione tramite razzi Infatti ne ho tipo 4 di cui 2 sono Enormi E praticamente No Slitta questa merda Boom What Guarda slitta tantissimo Madonna La devo sistemare questa qua Perché non si può andare avanti Con una carcassa così In effetti No no Vai Oh dark Comunque mi sta mirando un cecchino Non ho capito dove però Là in fondo Non è un cecchino Oh madonna Paragli metano Questo qua mi smonta Se no Eh vabbè Uh c'è quello che vola C'è quello No 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 Ci mira guarda Indietreggia metano Aspetta aspetta Li sto facendo un bordello di danno io Ok What the fuck Cosa Ah c'è uno che ci cura C'è uno che ci cura Ok Madonna quello lì che Ok l'ho levato Il 30% di vita circa Bella Quasi il 50% L'ho levato Metano Eh Sta avanzando il mondo Oh mio dio Già sono qui No 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 Ma che cazzo No dark no 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 Metano spara Spara C'è quello Cazzo 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 No 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 Si è ribaltato Dark Ah mi ha shottato Non si può uccidere Sono morto io Non si può uccidere quel coso lì A parte a me mi ha ucciso quello che volava Non mi ha ucciso quello che volava Ma dov'è scusa No c'è un frocio che vola Ok ragazzi allora Come partita diciamo che è andata un po' di merda Effettivamente perché Non giochiamo da tantissimo tempo Soprattutto dark C'ha le cose up Mentre il mio è Guardate questa cagatina qui Che sembra forte Però Tranquilli che è una merda Non va un cazzo Quindi Se è vero che questi video qui Un po' random Di questo gioco qui vi piacciono Fatemelo sapere Che comunque mi skillo un po' sul gioco E cerco di migliorare Non so di migliorare anche la sonave e tutto Quindi fatemelo sapere nei commenti proprio E in descrizione ci trovate anche il canale di Dark In caso vi interessasse E comunque Spero vi sia piaciuto E ciao a tutti Ciao